Non ho capito se la scuola è importante o se è vivendo che diventi grande Ma non c'è niente che ti cresce come chi tradisce le promesse Mi hai detto aspettami un minuto torno tra un secondo ma la fila intanto avanza E in quel carrello che attende il tuo ritorno accanto all'aloe vera c'è una falsa speranza Mamma torna sto arrossendo sta salendo il panico i biscotti di zia Claudia vengono anche senza l'amido Ma l'avido pensiero che io stia a aspettare qua quel minuto che ora è già un'eternità Cassa sei mamma non lasciarmi solo in cassa sei mamma dai ti prego dimmi dove sei Io ti aspetto tra pacchi di pasta ed attacchi di ansia da sola La cassa sei tra lunghi scontrini alla cassa sei e adulti scontrosi Tu dove sei se non ero il tuo nome spiegati la cassiera mi ha già chiesto se ho la carta fidati Fidati dicevi ma mai più mi fiderò non temo nella morte e nell'inferno dove andrò Ma la signora in rosso con il nome sopra il seno non ha i ridi negli occhi ma boccette di veleno Mamma torna sto arrossendo sta salendo il panico la gita all'esse lunga è diventata un film drammatico Trammatico mi centri studi e psicoterapia portateci le madri che ci perdono in corsia Cassa sei mamma non lasciarmi solo in cassa sei mamma dai ti prego dimmi dove sei Io ti aspetto tra pacchi di pasta ed attacchi di ansia da sola La cassa sei tra lunghi scontrini alla cassa sei e adulti scontrosi E tu dove sei se non ero il tuo nome spiegati la cassiera mi ha già chiesto se ho la carta fidati Quel rullo che rulla che trasforma la tua lista della spesa in realtà Quel rullo che rulla non si scappa dal destino stando su un tapirula Cassa sei mamma non lasciarmi solo in cassa sei mamma dai ti prego dimmi dove sei mi nascondo tra i rasoi La cassiera mi ha già chiesto quante buste vuoi La mamma del piccolo Riccardo è attesa in cassa sei Ripeto, la mamma del piccolo Riccardo è attesa in cassa sei Riccardo, bimbo timido, lentigini, occhiali, 34 anni